Musica Fine settimana tragico sulle montagne lecchesi, tre persone hanno perso la vita sulle vette del territorio per incidenti e malori, tanti gli interventi anche per escursionisti in difficoltà. Domenica di festa per il 118 che ha celebrato nelle piazze del centro i primi 30 anni di servizio coinvolgendo i cittadini con dimostrazioni e momenti di formazione. Protestano i pendolari lecchesi per la decisione di Trenord e di cambiare il capolinea del treno in partenza da Colico alle 6.09. D'aprile la destinazione sarà Milano-Rogoredo. Una settimana dedicata al tema della protezione dei dati e all'iniziativa dell'Istituto Badoni di Lecco che affronterà con gli studenti delicato e attualissimo tema della cyber security. Musica Buonasera e ben trovati con l'informazione di Unica TV edizione di Lecco. Apriamo questa settimana purtroppo con la cronaca perché è stato un fine settimana tragico sulle montagne lecchesi tra sabato e domenica. Tre persone hanno perso la vita sulle vette della Valassina e della Valsassina. Sentiamo. Fine settimana tragico sulle montagne lecchesi con i volontari del soccorso alpino impegnati praticamente senza sosta. Dopo l'escursionista 27enne precipitato sabato dal resegone ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Varese, domenica due persone sono scomparse nella zona dei Corri di Canzo al confine con la provincia di Como. Il primo allarme è scattato alle 11.30. Samuele Papini, un escursionista di 58 anni e residente nel milanese, è scivolato per una ventina di metri sul sentiero del Corno occidentale nel territorio del comune di Valbrona. Un tecnico del soccorso alpino era già sul posto, altri tre sono stati imbarcati dall'elicottero e portati in quota. Il medico ha constatato il decesso. La donna che lo accompagnava, illesa, è stata accompagnata a Valle. Mentre l'intervento era in corso, una persona che si trovava in zona a poca distanza ha riportato una lesione a un ginocchio ed è stata a sua volta soccorsa e portata in ospedale con elicottero. Dopo un'ora circa, sempre sui Corni di Canzo, ma nel comune di Valmadera, a mille metri di quota, un uomo ha avuto un malore mentre era in località Colma di Val Ravella. L'escursionista, un 63enne di Canegrate, nel milanese, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Lecco, dove però è giunto senza vita. Altro allarme, sempre nel primo pomeriggio di domenica, nella zona del Monte Ribrianza, Val Gregantino, per un escursionista con un problema a una caviglia. Sul posto le squadre del centro operativo del Bione, otto i tecnici impegnati. Nel tragico bilancio di questo fine settimana, anche la scomparsa di Val Sassina di Carlo Crippa, 67enne o ginattese, colpito sabato da un malore fulminante, mentre con amici stava facendo trial in Val Biandino. E cambiamo tenore perché è stata una domenica di celebrazioni nelle piazze lecchesi per i primi 30 anni di vita del numero unico 118. L'occasione per parlare dell'evoluzione del servizio, con dimostrazioni e momenti di formazione rivolte anche ai cittadini. Vediamo. 27 marzo 1992, con decreto del Presidente della Repubblica, viene istituito il servizio di emergenza territoriale, identificato con un unico numero a livello nazionale, 118. Da allora sono tanti i cambiamenti, continuo aggiornamento sulla formazione per garantire un servizio uniforme e di qualità sul territorio e per far fronte anche alle emergenze più inaspettate, come purtroppo il Covid insegna. Una giornata di festa per dire grazie, ma anche per imparare, dimostrazioni delle manovre rianimatorie di base con il defibrillatore di disostruzione delle vie aeree, del servizio di emergenza urgenza 118, del corretto allertamento dei soccorsi, con proiezioni sul maxischermo, dei disegni realizzati dai bambini. Tra i protagonisti, il direttore del 118 di Lecco, Mario Cerino, e il coordinatore infermieristico, Fabrizio Mosca. Diciamo che una delle figure che ha avuto un'evoluzione più importante per quanto riguarda l'assistenza territoriale è proprio quella dell'infermiere. Un'evoluzione che è avvenuta sia all'interno dell'ospedale, ma in particolar modo sul territorio, mettendo in campo degli infermieri in grado, attraverso una formazione specifica, di poter operare e fare fronte a un buon numero di patologie o comunque di eventi di bisogno improvviso della popolazione. Lecco può vantarsi di essere stata una delle primissime province in Lombardia a introdurre la prima auto infermieristica con una formazione locale, con dei protocolli locali. Poi con l'avvento di Areo nel 2009, questa formazione è passata a livello regionale. Guardate, sono stato felicissimo. Stamattina abbiamo fatto delle cose splendide, le stiamo continuando a fare. Siamo tutti insieme, tutto il personale che lavora sul territorio. Quindi siamo noi come AT, ci sono tutte le associazioni, c'è il soccorso alpino. Veramente una cosa bellissima. Abbiamo fatto vedere dimostrazioni in continuo per quanto riguarda le manovre. Abbiamo spiegato alla popolazione che cos'è il 118, come comportarsi. Abbiamo fatto dei flash mob bellissimi. Quindi veramente una festa. Ha consentito questo alla popolazione di comprendere ancora di più quello che è il nostro servizio e soprattutto con l'obiettivo unico. L'obiettivo è sempre quello che nel caso del bisogno sapere che cosa fare. E a questo evento abbiamo dedicato una puntata speciale di Hashtag, il nostro settimanale di approfondimento, che andrà in onda domani sera alle 20.20. Protestano i pendolari lecchesi. Trenord ha deciso dal 1 di aprile di cambiare il capolinea al treno in partenza da Colico alle 6.06. La destinazione non sarà più la stazione centrale, ma Milano-Rogoredo, l'appello alle istituzioni locali. Ci risiamo. Torna a farsi sentire la voce dei pendolari lecchesi contro, questa volta, la decisione di Trenord di modificare la stazione di arrivo del convoglio 2895 Colico-Milano-Centrale. Dal 1 aprile il treno, che ogni giorno parte alle 6.09 dall'Alto Lago, ferma l'Ecco del 7.19 e arriva in centrale alle 8.07, avrà come capolinea la stazione di Milano-Rogoredo. Un cambio di destinazione non certo in dolore per i pendolari. La modifica di orario del treno, che fra i più affollati della tratta, si legge in una nota diffusa dai rappresentanti dei pendolari Giorgio Dao, Francesco Ninno e Mary Fogli, comporterà inevitabilmente disagi per i moltissimi viaggiatori che lo utilizzano ogni giorno, con conseguenti allungamenti dei tempi di percorrenza e sovraffollamenti sui rimanenti treni regionali. L'invito dei pendolari è quello che i politici locali si facciano sentire e intervengano quanto prima per cambiare la decisione di Trenord. Il primo a farsi loro portavoce è il consigliere regionale del Partito Democratico, Raffaele Straniero, già in passato promotore di una battaglia perché i diretti da Lecco continuassero a fermare in centrale. Condivido l'indignazione dei cittadini del Lago e dell'Abrianza, che non ne possono più di questi volta faccia da parte di chi decide delle loro vite, della loro quotidianità attacca straniero, perché forse a Palazzo Lombardia non è chiaro che di questo stiamo parlando. Se centinaia di persone che vivono in uno dei territori più densamente abitati della regione chiedono che una certa scelta non venga fatta, forse la nostra prima istituzione dovrebbe tenerne conto, e una volta per tutte. Sul tema interviene anche il consigliere comunale di Lecco Ideale, Filippo Boscagli. Il nuovo 7.19 richiara sarà derubricato inutile regionale, oppure, peggio, costringerà chi non ha alternative a drastiche modifiche della già complessa routine quotidiana. Rimangono così in pieno orario di punta solo due treni reali diretti per il pendolariato lecchese, all'alba alle 6.55 oppure l'8.01, ad oltre un'ora di distanza l'uno dall'altro. Un'offerta che la dignità di capoluogo, conclude Boscagli, non può che ritenere al limite dell'insulto. In attesa delle precipitazioni che dovrebbero arrivare sul territorio lecchese, mercoledì resta alto il rischio incendi. Dopo la protezione civile regionale a lanciare l'appello per l'attenzione a raccoli diretti, Comolecco, sentiamo. Sole, temperature e miti, non si può dire che la primavera si sia fatta attendere, regalandoci l'opportunità di trascorrere il weekend all'aria aperta. A farsi desiderare, però, è la pioggia, grande assente ormai da tre mesi. Se le previsioni non sbagliano, mercoledì dovrebbero arrivare sulle chese le prime precipitazioni, con temperature intorno ai 10 gradi. Un tocca sana per il territorio, che risente notevolmente della siccità. Secondo i dati ARPA, durante l'inverno appena trascorso, sono caduti in Lombardia solo 65 mm di pioggia, l'82% in meno rispetto all'anno scorso, e l'ario è minimi storici, con una percentuale di riempimento di appena il 5%. A Lecco solo per poco non si riesce a raggiungere a piedi l'isola Viscontea, e inoltre torrenti e fiume Adda sono parzialmente a secco. Alto poi il rischio incendi. A lanciare l'allarme, oltre alla protezione civile regionale, che da qualche giorno ha attivato l'allerta rossa, è la col di Retti Comolecco. Il 2021 ha visto in Italia ben 150.000 ettari di terra inceneriti, spiega. 659 tempeste di fuoco contro una media di 265, calcolata tra il 2008 e il 2021. E se da una parte, se incendi su 10 sono di origine dolosa, dall'altra, per effetto della chiusura delle aziende agricole, la maggioranza dei boschi nazionali si trova senza sorveglianza, per l'assenza di un agricoltore che possa gestirli. Ogni rogo, afferma col di Retti, costa oltre 10.000 euro all'ettaro, fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica, e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici delle aree devastate in un arco di tempo che raggiunge i 15 anni. Per difendere il bosco, sottolinea il presidente Fortunato Trezzi, occorre creare le condizioni economiche e sociali per contrastare l'allontanamento dalle campagne, e si valorizzino quelle funzioni di vigilanza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli, anche nei confronti delle azioni criminali. Inoltre, in questo momento storico, con l'esplosione dei costi dell'energia e delle materie prime, i roghi che devastano le foreste hanno anche l'effetto di aumentare il deficit commerciale nel settore del legno, dove l'industria italiana è la prima in Europa, ma importa dall'estero più dell'80% del legname, ma è necessario ad alimentare il settore del mobile, della carta e del riscaldamento da fonte rinnovabile. Insomma, per una volta, la classica pioggia di Pasquetta sarebbe manna dal cielo. Proprio in questi giorni, mentre in Europa si sta combattendo una guerra anche sul fronte della cibernetica e degli attacchi informatici, l'Istituto Badoni di Lecco propone ai suoi studenti una settimana dedicata alla protezione dei dati. Non c'è bunker che tenga contro le armi invisibili e potentissime degli attacchi informatici. L'unica difesa è imparare la protezione dei dati. All'Istituto Badoni di Lecco un laboratorio sperimentale frutto di un percorso triennale dedicato alla cybersicurezza in collaborazione con l'azienda Isinet. Cybersicurezza significa sostanzialmente avere cura dei propri dati, significa avere assolutamente attenzione su tre argomenti principali. L'integrità, la disponibilità e la riservatezza del dato. Se noi riusciamo ad inculcare ai nostri ragazzi questi concetti, riusciamo assolutamente a far crescere in loro la consapevolezza e quindi a renderli sostanzialmente degli human firewall, quindi dei sistemi umani che riescono a ridurre enormemente la possibilità di realizzare un errore e quindi di essere poi coinvolti in un attacco informatico. Parlare di sicurezza informatica al Badoni vuol dire dare l'opportunità ai ragazzi di formarsi e di essere quindi la ricchezza di questo territorio nel futuro. Alle aziende può servire essere pronti a lavorare in maniera opportuna evitando gli attacchi informatici. Quindi è proprio il tentativo di lavorare al servizio dei nostri ragazzi e di questo territorio, fornendo quindi i diplomati del Badoni che siano ancora di più pronti per le sfide attuali. Quanto è importante questo tipo di preparazione dei ragazzi nel mondo del lavoro? Oggi è fondamentale, lo sapete benissimo, lo si legge quotidianamente sui giornali, dalle grandissime aziende ricattate, dalla ferrovia che non riescono a svolgere il loro lavoro. Cioè per un'azienda perdere il controllo dei dati sarebbe veramente un dramma e vuol dire fermare le aziende. Quindi un corso che prepari i ragazzi alla cibernetica, al controllo cibernetico, alla sicurezza dei nostri dati, del nostro potere continuare a lavorare, è sicuramente una cosa fenomenale. Quindi benvengano questi corsi che aprono un futuro realmente importante per i giovani. L'industria ha bisogno di sicurezza in tutti i campi, perché il futuro deve essere un futuro di sicurezza, di tranquillità e lasciatemelo dire di pace. Agli istituti riuniti ai Roldi e Muzzi riprendono gli incontri in presenza con i propri cari, senza bisogno di restare separati da un vetro. Dopo due anni di pandemia e restrizioni, un passo importante verso un ritorno alla normalità, tanto atteso sia dagli ospiti che dai familiari. Incontrarsi e parlare con i propri cari senza essere separati da un vetro. Un importante passo avanti verso il ritorno alla normalità per gli ospiti degli istituti riuniti ai Roldi e Muzzi di Lecco. Finalmente un contatto più diretto con amici e parenti. Un momento tanto atteso dopo due anni di pandemia. A seguito delle ultime disposizioni di Regione Lombardia, siamo felici di poter dare questa notizia ai familiari, dai nostri ospiti, spiega il Presidente Giuseppe Canali. Credo sarà un momento molto bello, dopo mesi di colloquio a distanza separati da un vetro, ma è fondamentale, continua Canali, che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie, utili per proteggere i familiari e soprattutto gli ospiti che si trovano in una situazione oggettiva di fragilità. Dunque le visite avverranno su appuntamento, dando a tutte le famiglie pari opportunità. Dirigenti responsabili e dipendenti si stanno organizzando per far sì che le visite si possano svolgere tutti i giorni della settimana, indicativamente dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18, alla presenza di non più di due visitatori per ospite. Alle famiglie verranno comunicati un numero di telefono e un indirizzo mail appositamente dedicati alla prenotazione degli appuntamenti. In Portineria verrà allestito un checkpoint per la verifica del certificato verde rilasciato a seguito della somministrazione della dose vaccinale booster o dell'avvenuta guarigione unitamente a certificazione di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso. Sarà necessario indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata della visita e verrà richiesta la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità. È una novità importante ma occorre collaborazione da parte di tutti, conclude Canali, per vivere serenamente questo momento nei nostri giardini cortili ma anche negli spazi interni dedicati. Speriamo che il tempo degli abbracci virtuali sia ormai un ricordo. E in chiusura del nostro telegiornale vi ricordiamo la raccolta fondi attivata dalla Fondazione Comunitaria dell'Ecchese per garantire l'accoglienza dei profughi in fuga dall'Ucraina. Le donazioni sosterranno le spese per l'ospitalità nei comuni della provincia di Lecco, la fornitura di generi di prima necessità e tutti gli interventi necessari per aiutare i rifugiati. Come vedete in grafica, per donare basta effettuare un bonifico bancario intestato alla Fondazione Comunitaria dell'Ecchese scrivendo come causale Lecco ospita l'Ucraina. Questa era l'ultima notizia dunque io vi auguro una buona serata ricordandovi che potete seguirci anche sul sito teleunica.com teleunica.tv con tutti i nostri programmi e anche sui nostri canali social. Grazie a tutti.